Resterà sporco di vernice l'albero di Natale installato da Gucci nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, imbrattato venerdì 29 dicembre da un gruppo di ambientalisti di ultima generazione. Gli attivisti hanno rivendicato l'azione, rimproverando l'industria della moda di lusso di essere parte di un modello di business non sostenibile. Gucci ha scelto di non pulire l'albero utilizzando l'incidente come spunto di riflessione collettiva sul cambiamento climatico. Grazie per la visione!